che schifo comunque davvero beh io non dicevo di quello beh com'è che si doveva chiamare il video di oggi pomeriggio in Milano ehi amici guardate questo verrà registrato ah così ci vedono comunque io non vedo l'impe vice sceriffo Alistair l'impe vice sceriffo Malfite non c'è l'impe niente pesce 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 devi imparare a usare Alistair no no te dopo sei devi stare con il suo ah io ci posso stare con il suo la bambina come ha fatto a spavarmi a quel livello? cioè a livello così? è arrivata in lane ma è tornato? eh avrà avrà boot spammato la W mico mi affido alle tue Cooper ammazzai quei primi minion ah mi vuole finalmente io loro Asagi se riuscissimo a fare prima noi il due ma lo fanno prima loro come on let's go Asagi non è rice è fatto anche un po' da cani sei un rassista io non ho mai detto mai detto nulla di sì io quella la chiamo di sì mai sentito io continuo a chiamarla di sì con noi ha workato amico ma poi c'è i clean e kyle quella ah è appena tornato andiamo a fargli una visita zio anzi no te piglia il coso se riesci senza farti ammucchiare però amico vai vai amico non ti ammucchiano non ci hanno nemmeno pensato amico stanno salendo ma poi mi vedono no non stanno salendo no che salgono salgono vai via vai via vai via amico vai via no amico ti vedono solo quando il santuario è loro si infatti c'è il coso fish 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 aham ma che cazzo ma sono da quelli di fiorante di moffite aham ma amico intanto se n'è andato dici oh che te serve bimba bella ma intanto l'ho scioltato non è sciolta proprio niente ahah salto oh oh scolgione sua la kill è sua il pesce che gliel'ha fatta caredere e appena stava morendo salta io ma non so perché mi sto immaginando Yasuo e il pesce è tipo best friend forever eh beh che escono insieme vanno a cacciare i donne vanno a pesca ce ne va moltissimo prima fanno contento Yasuo che vanno a cacciare i donne e poi Yasuo gli fa va bene adesso è la mia parte dell'accordo e c'è Yasuo sulla barchettina con e pesca e c'è un pit che lo guarda gli fa fish 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 e gli ho detto eh ho capito eh ho capito eh voglio ho capito Yasuo e mi ha bella Kyle 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 la ecola che tira la spada e ti fantazza ce l'ha praticamente di continuo chi finisce dopo due secondi io questo mignone lo voglio non capisce ehi Yasuo andiamo a pesca amico l'immersione eh and off guarda quanto è contento quando è col suo amico Yasuo ha la voce più brava quando c'è Yasuo vicino ora andiamo a cacciare i donne eh beh poi adesso andiamo a cacciare i donne amico piantare una spadata attaccare come era quello che intende ma io non giuro swimmingly swimmingly è diventato un mignacolo che cosa è andata via bravo malschite io amico io farei il giro largo ormai se no ti stunna e ti ammazza no secondo me che è una coglione non mi pescheranno guarda Yasuo guarda un pesce amico ma è un pesce vai malpite a parte che malpite cosa non ha la ma non c'era io sto ma è un pesce martin passate per la rovina è più fissa di quello che ti immagini è più fissa di quello che ti immagini Ehi, Gesù, Gesù, guarda, Gesù, ha boccato! Non l'ha boccato proprio Gesù, non avevi nemmeno una canna d'attesa. Amico, ce l'ha, ce l'ha. Ehi, yeah! Amico, non si parla. Vorrò fare anche il cosplay di lei, dici? Charlie's Angels? Facciamo noi Charlie's Angels? Beh, almeno sarebbe più coperta. Andiamo a fare le Spice Girls? Che potremmo fare Charlie's Angels o Spice Girls? Amico, mi sono tutti, amico. Quindi tu vuole fare quella cinesia? Ma se ci pigliamo sto altare? E se sepiamo l'oro? Ma io non so. Ma perché c'è ancora Kyle? Adesso Kyle dovrà tornare su e... Più, più, più! Ma è al tre? Oh, che fa... Impe, vieni bocca. Ha rotto un po' di guaglioni questa. Quanto gli manca? Che è al te? No, che fa... Che è al te? Che è al te? Che è al te? È al te? bravo pesci hai vinto il doppio fornitura di pesci pesci che bello amici fate via torre non mi pescheranno non mi pescheranno brava torre ammazzo la roccia amico veramente ha ha pestato un po il pesce la torre 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 basta ora prendi la cura poi c'è bisogno di dirlo ho l'amico che viene pestato dal signorini che gli fa farsi al signorini basta ok il pesce non può scavalcare sto coso amico fai il refound non la vendere se la vendi ti dà la metà ma come fai il refound c'è le freccettine c'è la freccia becca a destra di sell refound non c'è bisogno per forza ma questa roba missano 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 roba nuova fratello roba nuova roba di lutto ehi 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 grazie amicone grazie grazie amicone grazie amicone paura e ora è morto la mia la spraigliato se vuoi amico c'è il fischio fai infatti fai lo you will do si zio non è pronto è scelto c'è il pesce prendi prendi quella bambina tutto pesce tutto pesce tutto pesce siamo anche in via lo sappiamo ma che cazzo ma che cazzo è un problema è un problema prima è depresso poi è contento sta male che cazzo di pianto è ma molto analizzata ma poi adesso ci facciamo ma che cazzo di pianto che cazzo è facendo scusa ma che cos'è chi è è l'amico ma ripeto ripeto pugno devastante non è una figlia intanto pugno devastante non credo nemmeno che si chiama che si chiama pugno devastante non ci ha creduto nessuno è l'impe e poi c'è l'impe l'impe è morto ecco le due cose fighe l'impe che si fa il pugno devastante l'impe si fa la sega devastante basta basta non c'è cazzo di pastiglio non lo no non c'è che cazzo che cazzo che cazzo è la stessa identica cosa vuol dire l'impe unta pesce ma che pesce malpite ma che cazzo schifo non hai visto il pugno è stancato quella merda è stancato è stancato è stancato è stancato è stancato è stancato che cosa che cosa è stancato che cazzo stai dicendo schifo schifo ma che cosa ma non ho fatto proprio nulla che cazzo è mia adesso adesso non so perché secondo me l'impe prima o poi è presente una notte da leoni due quello che fa col trans secondo me è l'impe che si sveglia minchia a te quando ti sono venuto dentro no forse quando io ti sono venuto dentro no io io amico minchia ma c'è vena al 7 cazzo sta 06 le posso saltare in patto ma che cazzo fai pronto partenza via ma che cazzo è i Beyblade no ah Fish è il vostro amico Fish no quelli non sono cose leggi però oh Roccia Roccia è compagnia dell'anello oh ma siete dei ladri tutto il pitch lo signore fate cagare ma che cosa è che cazzo che cazzo è che cazzo